Poi Shonen, questo a scarocco, è Shield 21, sì si dovrebbe di 21, lo dico, ripeterò 21 da ignorantona perché mi sono ormai abituata, di Rishiro Inagaki Yusuke Murata, edito dalla nostra amata Planet Manga a 3,90€. E numero 19, che è un po' più sottile del solito, però stavolta la cosa è giustificata, stranamente, perché il numero 20 ho letto che avrà delle pagine a colori, avrà un episodio in più, in pratica un episodio che era contenuto nel volume 19 originale verrà shiftato nel numero 20 con le pagine a colori per segnare l'inizio della nuova saga di A Shield 21, perché in questo numero si conclude una prima saga. In una maniera che io ho apprezzato, non faccio spoiler, e mi è piaciuto forse un'anticchia di meno degli altri, forse meno proprio epico, perché Shield 21 ha proprio dei momenti in cui tu stai lì e ti esalti a vedere le cose assurde che riescono a fare. Questo forse è un po' meno, però secondo me è sempre su alti livelli e sempre su disegni notevoli. Cioè, io lo dico sempre di questo shonen, io rimango sconvolta da come sono disegnate bene le scene anche più concitate, che io riesco a capire cosa succede, perché è un problema che io spesso ho con gli shonen e che magari nelle scene di azione non riesco bene a capire, oddio, chi sta colpendo, chi, cosa, doveva sbattere, mi perdo, invece qui non succede. Però anche è bello il retro del volume. Io lo consiglio sempre tantissimo, è uno shonen fantastico adatto anche alle ragazze, perché è veramente troppo divertente. Anche ora che è più serioso comunque prende, prende, prende tanto. Consigliatissimo. Poi un ritorno neone, è Gans numero 25 di Hiroyoku, edito sempre della Planet Manga, al prezzo di 5,90€, prezzo giustificato però dalla sovracoperta. Quindi tutto sommato un prezzo in linea col mercato, anche una carta tutto sommato decente. Gans è un seinen, non leggo a scrocco anche questo del mio ragazzo, anche se. Diciamo che non è proprio a scrocco, perché in realtà tutta la serie, i primi 20 numeri credo glielo ho regalato io. Glielo ho regalato per un compleanno o un Natale, non mi ricordo, anche perché i primi numeri sono un po' difficili da reperire. E' una storia sempre molto appassionante, anche angosciante, cioè mi angoscia proprio, perché quando la giganza dice Oddio chi muore, questo numero, oddio chi morirà, oddio. Cioè non sta sempre un po' così, sembra che uno sopravvive e invece schiatta, sembra che uno schiatta e invece sopravvive. Una delle poche pecche di questo titolo, io non capisco perché, nei retri del volume, mi rifiuto di farlo vedere, in molte illustrazioni d'inizio capitolo ci sono delle donnine più o meno discinte. Perché? Cioè non c'entrano niente con la storia, non sono neanche personaggi della storia spesso. Però ci sono queste donnine in pose un po' col seno mezzo scoperto, il sedere in bella vista, cose simili. Perché? Cioè capisco il fanservice, cioè non mi piace ovviamente, però lo posso capire. Ma così, messo buffo nei frontespizi, non lo so. Questa è una cosa che mi ha sempre lasciato perplessa, anche se ultimamente le ha diminuiti molto nei primi numeri, era molto molto peggio. Comunque, vabbè, non ci facciamo mai mancare niente. Si conclude finalmente la battaglia di Osaka, Osaka come si dice? Non lo so, Osaka credo. E si conclude in un buon modo, alla fine insomma. Nonostante tutte le perdite eccetera, sono contenta perché questo uomo, non mi ricordo quanti numeri fa, aveva fatto morire il protagonista. È un sadico Iroyoku, è veramente un sadico nei confronti del lettore, io lo dico. Però comunque Gans è un ottimo titolo, è un po' particolare come titolo. Diciamo che lo considera chi vuole una storia di azione, con elementi anche sci-fi, con un po' di fanservice ficcato nel mezzo. Ma comunque è una storia appassionante e angosciante al punto giusto. Improntata molto sull'azione comunque e sul non sapere cosa succederà dopo. È un titolo che nonostante le apparenze mi prende molto. E sono contenta di avere l'opportunità di leggerlo. Passiamo a uno scioggio, ho finalmente recuperato Ai Presente Midori 2, di Goike Yamada, edito dalla Flashbook, a 4,90€. Quindi un euro in meno del solito, che ha sempre sovra copertina e tutto quanto. L'ho recuperato adesso ma è uscito a dicembre in realtà, questo numero 2. Perché vabbè ve l'ho già spiegato nel mio video sui chiarimenti di manga, pensavo che forse mi sarebbe arrivato, invece non mi è arrivato, insomma alla fine l'ho comprato io. E non mi dilungo molto perché ho già registrato un focus on sul numero 1 e sul numero 2, che dovrei pubblicare prima di questo video. Quindi in caso, comunque vi rimando a quello, metto un quadrato volante da qualche parte qui. E comunque una storia che a me piace molto, l'ho iniziata a leggere senza troppe aspettative, invece mi diverte, mi prende. E ne apprezzo tantissimo l'autorionia e l'elemento sportivo che c'è, che non è da tutti. Nonostante la storia, insomma, sia abbastanza canonica per uno shoujo, sotto vari punti di vista. Poi, al novità Flashbook, il mio demone guardiano 1, di Mick Takeuchi. Un altro shoujo, questo più a tema horror, condito però da molte gag humoristiche che servono ad allentare l'attenzione. Anche di questo ho registrato un focus on, che anche questo dovrei caricarlo prima di questo video, quindi penso che magari qualcuno l'avrà già visto, in caso metto sempre quadrati volanti per rimandarvi al video. E mi è piaciuto molto, ha un volume introduttivo comunque, quindi bisogna vedere gli sviluppi futuri. Secondo me mette carne al fuoco molto interessante, mi apprezzo molto l'elemento umoristico per alleggerire l'attenzione e mi interessano molto le varie relazioni tra i personaggi, che in questo primo numero non sono tanto relazioni amorose, eccetera. Quindi ho molto apprezzato e non vedo l'ora di leggere il secondo numero, mi è piaciuto davvero tanto. Un graditissimo ritorno è Keroro16, della Star Comics, a 4 ore 20. A me Keroro piace tantissimo. Non ho mai visto le anime, devo essere sincera. Io ho comprato il primo volume del manga perché lo conoscevo di nome, però insomma i dia 7 non ho mai proprio, cioè hanno sempre trasmesso in orari in cui io proprio non potevo guardarlo. Quindi ho deciso di provare il manga e mi è piaciuto tanto. Mi diverte molto, anche se questo numero forse non è tra i più riusciti, ce ne sono stati altri di più deliranti. Ho un debole veramente per Keroro e tutta la sua banda. Dico militoni che prende in giro tante realtà terrestri in situazioni spesso a limite dell'assurdo. Questo a chi cerca un manga umoristico lo consiglio, insomma, anche se è veramente il 16, c'è stato di meglio. Però anche il 16 è molto godibile. Passiamo ad altro genere. Un seinen, King of Porn 2, di Yuji Iwara, se non sbaglio. Sì, mazza, me lo sono ricordato. E a 5,90€ dalla Flashbook, una storia che si concluderà in sei numeri solo. Una storia di tipo post-apocalittico, incentrata sulla sopravvivenza di questo gruppo di reduci da un esperimento. E si chiarisce qualche ombra, ma emergono tanti nuovi dubbi e tanti nuovi sospetti. Mi piace veramente tanto per come ti mantiene sul filo della tensione mentre lo leggi, senza però essere troppo morboso. Ecco, secondo me ha un ottimo equilibrio di varie componenti, che lo rende sicuramente interessante e apprezzabile anche dalle ragazze, che magari è un titolo che ai ragazzi ispira di più. Però lo consiglio anche alle ragazze perché sinceramente è interessante, anche se ha la protagonista che sarebbe veramente, certe volte, da prendere a calci sulle gengive, per quanto è lagnosa. Però, passando oltre la protagonista, veramente insopportabile per i suoi complessi nei confronti della sorella, per il resto è un ottimo titolo, con dei personaggi interessanti. Meno male che c'è Marco Owen, che quando c'è lui la storia si rivitalizza sempre abbastanza. Io lo consiglio. Passiamo all'unico Giusei, quindi titolo per ragazze un po' più maturo, della mesata, che è Kiss and Never Cry 4 e 5, perché questi due numeri sono usciti a meno di tre settimane di distanza l'uno dall'altro, il 4 all'inizio gennaio, il 5 al fine gennaio. E mi piace tanto, continuo sempre a dire che mischia bene varie componenti, e devo dire che leggendo questi due numeri ho pensato tanto a Mr. Momomania, perché lui ha fatto una sua recensione in cui diceva, sì, la storia è carina, sarebbe anche interessante, però la protagonista è proprio pesante. E ha ragione, cioè, diciamocelo. Però ho pensato a Mr. Momomania perché la protagonista, Michiru, in questi numeri, finalmente decide in qualche modo di reagire al trauma che ha subito da piccola. E quindi c'è un po' un cambiamento di Michiru, finalmente, che riesce a vivere le cose in maniera un po' più positiva, in linea di massima. Comunque non più sempre con quella faccia da morto, e in maniera più attiva comunque. Quindi probabilmente a chi non è piaciuto prima continuerà a non piacere anche adesso, però la protagonista si dà un minimo di svegliata. Si vengono alla luce molti, molti misteri legati al club bambina, al passato di Michiru, all'omicidio del coach, del suo coach di quando era piccola. Insomma, tanti indizi vengono a galla e sembra che ci stiamo avvicinando comunque a un punto risolutivo. Grande spazio, anche lasciato alle performance agonistiche di Michiru e del suo compagno di gara, Ikaru. Quindi io continuo sempre a consigliarlo tanto a chi vuole una storia incentrata sullo sport, tutto il patinaggio sul ghiaccio, con tinte anche da thriller per via dei misteri dell'omicidio, e con anche un po' di sentimento, però secondo me nella giusta misura. A me continuo a piacere veramente tanto, poi ovviamente che mi devono piacere a tutte le stesse cose. Grazie.